Ben trovate e ben trovati a una ricetta con Orietta, con Emanuele Ferrari che è qui a fianco a me. Ciao Emi, ma soprattutto con il paniere di prodotti DOP e IGP della Valle del Gusto, dei sapori che è l'Emilia Romagna. Bravo, ti piacciono gli affettati? Perché il paniere di oggi sarà una bella scampagnata nel mondo degli insaccati DOP e IGP dell'Emilia Romagna. Ma vediamo cosa abbiamo, una buonissima coppa piacentina DOP, un'altrettanto buonissima coppa di Parma IGP, il prosciutto di Parma DOP con la sua bella Corona Ducale, il prosciutto di Modena DOP, del profumatissimo culatello di Zibello DOP, l'insuperabile mortadella Bologna IGP. Soddisfatto mio caro? Super soddisfatto. Guarda Orietta, la mia proposta di oggi è un po' una ricetta e un po' anche una speranza. Ti preparerò dei meravigliosi spiedini peace and love, che sai cosa vuol dire? Certo, pace e amore. Sei sempre sul pezzo, Rietta. Iniziamo! Allora, Rietta, qua ci sono tutti gli ingredienti che mi hai detto, che sono super colorati perché io mi definisco ragazzo arcobaleno. Facciamo i mix che vogliamo e iniziamo. Inizio dalla mortadella, che tra l'altro è il salume preferito della mia bisnonna, che è una tua grande fan, infatti si è molto invidiosa. Lei mi invidia molto quando glielo ho detto che dovevo fare questo con te, è super invidiosa. E ha 101 anni, 101 anni. Ma pensa che bell'età. Sì, sì. Me la saluti tanto. E volevo chiederti, tu sei mai andata a un Pride? Ne ho fatti tanti, sono andata per 26 anni a Los Angeles. Potresti essere una bella madrina. Beh, vengo con l'abito con le conchiglie. Il fiorellino non si infila, si sfoglia tutto. Il fiorellino non si infila. Non si infila. Sai cosa dico, Rietta? Io direi che ce lo mangiamo così. Davvero, dopo però. Mi l'ho mai già fatto. Pomodrino secco. Tu mi hai già messo tutto, eh. Sì, perché voglio abbinare i colori diversi. Ti danno colore. E energia, questi spiedini, peace and love. Se l'occhio vuole la sua parte, qui ce n'è ragazzi, eh. Sì, sì. E qui abbiamo finito. E qui abbiamo finito. Ed eccoli qua. Ma che carini i tuoi spiedini. Sembrano irresistibili. Ne posso scegliere uno? Certo, Rietta. Mentre tu intanto ricordi a tutti gli innamorati e le innamorate della Food Valley come dove trovare il procedimento. Esatto, vi ricordo che tutto il procedimento e le informazioni dettagliate sui prodotti DOP e IGP dell'Emilia Romagna, unitamente a tante altre curiosità, le potete trovare sulla pagina unaricettaconorietta.it E tu sei riuscita a scegliere il tuo prefe? Beh, non ancora. Sono tutti così invitanti. Allora, tieni. Inizia da questo, che è quello che hai fatto tu. Bene. Io invece inizio da questo qua. Ecco, bravo. Che profumo. Che profumo. Che profumo.